C'è la durata demografica civica di tutto quanto, quindi si farà una grande visita alla mostra italiana in eccezione delle sale nobili del palazzo che è dedicata a tutti i vedi di caratteristica. Quindi la professoressa Carla Rommi, che è la delle visite d'Utra, che rinuncierà brevemente la storia con queste portellerie e i pensi che avranno scoperto. Poi si accompagnerà sull'esercizio di facciata, quindi occupare qualche raccandazione, anche se la fece non è internazionale, non ci sono più pericoli, però se le persone non accorgiamo i vestiti, sono più pericoli, più pericoli, più pericoli, più pericoli, più pericoli, però vedrete che si riesce a fare bene e potete fare il tipo degli ultimi e poi intorno alle 8, 10, 10, rinuncierà a fare il discorso. Quindi questo è la fila, potete cominciare con la professoressa Carla Rommi e lei mi accompagna su, quindi mi inizia brevemente con le forze e la professoressa Carla Rommi e lei mi accompagna su. Grazie. 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 Grazie.